Puntata speciale dedicata al Giappone con idee di viaggio. Sì, perché anche se siamo in un momento di pandemia, molti di voi mi hanno già contattato e mi hanno chiesto come organizzare un viaggio. Meglio, lo sapete anche voi come si fa, ma riguardo al Giappone ci sono alcune cose da tenere in considerazione. In questo video, soprattutto per chi non c'è mai stato e non è quindi esperto del Giappone, voglio raccogliere un'idea di viaggio e alcuni consigli pratici che possono sempre tornare utili, anche nel post pandemia, quando finalmente si potrà ritornare in Giappone. Sto registrando questo video che siamo ancora nella fase del virus, quindi di pandemia globale, e il Giappone è ancora totalmente chiuso. Secondo le mie aspettative, visto come si stanno muovendo, direi che non apriranno prima di maggio 2021, se tutto va bene. Pertanto, se state pensando, e se siete qui a vedere questo video è molto probabile, di andare in Giappone, iniziate a pensare alle Olimpiadi 2021, che non sono ancora del tutto convinto verranno fatte, anzi, sono più sul no che sul sì, però vedremo, vedremo. Oggi sono proprio qui perché vi voglio dare qualche consiglio e indicazione su come organizzarvi il viaggio, soprattutto se siete alle prime armi. Ecco, la prima cosa da fare, che io ho fatto almeno nel 2009, è stata munirmi di questa bellissima guida della Lonely Planet, è stata usatissima nei viaggi, ci sono un casino di pagine ingiallite, ed è la prima edizione italiana, che corrisponde credo alla terza o alla quarta di quella inglese, si fa fatica a trovarla, se riuscite a trovarla vi consiglio molto di più questa di quelle nuove, per un semplice fatto, perché ci sono delle mappe molto ben fatte su vari percorsi da effettuare all'interno delle varie città, o comunque anche percorsi naturalistici, che in quelle nuove guide li hanno totalmente eliminati, ci sono praticamente solo hotel e cose da vedere con alcune indicazioni di base. Quindi iniziamo a pensare che una guida al giorno d'oggi non è tanto utile, perché internet è con noi, e proprio su questo voglio ragionare sull'internet e le possibilità. Il mio suggerimento iniziale è di fare un viaggio, se è la prima volta, minimo minimo di 10 giorni effettivi in Giappone, il che corrisponde a 12 giorni, compresi quelli di viaggio, di andata e di ritorno. Se avete qualche giorno in più, meglio, però il minimo minimo deve essere 10 effettivi in Giappone, altrimenti, secondo me, state solo sprecando il vostro tempo. La mia ipotesi di viaggio è più o meno quello che abbiamo fatto nel 2009, io e Fabietto, partendo, adesso ve lo faccio già vedere, dall'aeroporto di Kansai. L'aeroporto di Kansai, siamo arrivati a quello vicino a Osaka, da lì si fa molto rapidamente, in fretta arrivare a Kyoto, qualche oretta, quindi, se non arrivate troppo tardi, può essere molto comodo. Adesso vediamo se si riesce a sistemare. Questa è la stazione di Kyoto, uno dei punti focali di Kyoto, da cui partono tutti gli autobus, perché Kyoto è basata sulla movimentazione con gli autobus. Ha due linee della metropolitana, ma sinceramente non le ho mai utilizzate, fanno una croce, praticamente, dovrebbero essere, sì, tipo queste qui, è una croce dritta in quest'area, però non le ho praticamente mai usate, perché sono molto più comodi gli autobus, ti portano dove vuoi. Sugli autobus ci arrivo subito a dirvi come muovervi, perché ci sono delle tessere giornaliere che fanno molti sconti, cioè ti aiutano ad avere uno sconto. Intanto vi faccio vedere la mappa, mentre carica, ovviamente, la pagina con lo sconto. Questa è tutta la mappa di tutte le linee degli autobus di Kyoto. Non spaventatevi, in realtà bisogna avere un po' di paura, perché bisogna entrare un attimo nella mentalità, ma si arriva ovunque, e anche relativamente in poco tempo. Quindi, questa ve la danno, ve la trovate all'ufficio informazioni, fermatevi. E questo qui è il biglietto da 600 yen, giornaliero. Un biglietto che vi permette di entrare, cioè di salire e scendere dagli autobus quante volte volete in quella giornata in cui lo timbrate. La prima volta timbrate, poi lo fate semplicemente vedere al controllore. È molto utile, ma soprattutto molto conveniente, perché un autobus costa 230 yen, quindi a tratta, e comprende questo biglietto tutta tutta questa zona. Adesso c'è anche Arashiyama, che una volta non c'era, e anche dei templi lontani, che inizialmente non c'erano come questi due qui, perché una volta si arrivava solo vicino al Kinkakuji. Ma adesso vi faccio vedere come organizzare la permanenza a Kyoto. Allora, questi tre giorni, dividerei in questo modo la permanenza a Kyoto, cioè cinque giorni più uno di trasporto, quindi si parte da Kyoto e si va verso Tokyo, e si fanno gli ultimi quattro giorni a Tokyo. Si può fare anche viceversa. Vi faccio questo suggerimento, perché avete solo uno spostamento in treno Shinkansen, e quindi volendo potete risparmiare, prendendo gli altri biglietti direttamente, o sulla JR, o su linee private, per andare in altri luoghi. Ma il primo giorno io lo dedicherei, anche se è in restauro al Kiyomizudera. Il Kiyomizudera è un bellissimo tempio, purtroppo la parte centrale è in restauro, credo che dentro ci si possa andare. Io per esempio non l'ho mai visto questi altri templi qui, perché erano sempre in restauro dagli ultimi dieci anni che ci sono andato. Credo che adesso quelli siano invece visitabili, quindi magari può essere utile. È anche carino questo tempio qua giù, ma è molto carino girare in tutta questa, in quest'area, sì, classica del Giappone, con tutte delle viuzze molto normali. Questa è un'area già di Gion, con già alcuni tempi di Zen, bellissimo questo, o uno dei Buddha più grandi, anche questo può essere interessante da visitare. Questa è l'area di Gion, molto particolare. Io nel primo viaggio insieme a Fabietto abbiamo alloggiato in quello che dovrebbe essere questo rio Kan, all'epoca era questo, il Reikia, però adesso non è più un rio Kan, ha chiuso qualche anno fa, è costato anche poco, una signora simpaticissima che ci ha ospitato. Se volete un rio Kan lì dovete cercare, sono molto costosi, ma è molto bella, una notte la potete pensare di passare lì. Finire la giornata al tempo Yasaka, è un percorso abbastanza lungo, quindi prendetevelo con calma, soprattutto se siete in estate, andate con molta calma, perché è molto caldo, e siete a Gion. Praticamente questa è l'area, una delle aree della vita notturna di Tokyo, di Kyoto, scusate, insieme alla stazione di Kyoto. Quindi la sera secondo me dovreste venire in quest'area. Che cos'altro si può vedere? Allora, in quella giornata io direi di fare questo tipo di percorso, poi se ve la sentite ci sono qualche altro tempio qui vicino, potete allungare, e il primo giorno a Kyoto è andato. Il secondo giorno a Kyoto io lo farei per i templi principali, e uno è ovviamente il Ginkakuji, il Tempio d'Argento, che lo preferisco nettamente al Tempio d'Oro, che però dovrete visitare, anche se sarà pieno pieno di turisti. Vi suggerirei di partire da questo tempio, anche un po' prima volendo, sì, mi sembra, stavo guardando, mi sa che possa, da questo tempio qui, quest'area qua, perché qui inizia proprio il percorso sotto i ciliegi, è tutta una via a fianco di un fiume, si chiama la Via del Pensatore, che vi porta fino al Ginkakuji, che è il Tempio d'Argento, è molto bella, soprattutto in primavera, se avete visto i video con me e Fabietto, vi ho fatto vedere tutta l'area con i ciliegi in fiore. Dopo che avete visto questo, direi di spostarsi, appunto, al Tempio d'Oro, ci dovrebbero essere degli autobus, che apposta fanno questo giro, e vi porta direttamente qua. Ricordatevi che i templi in estate, chiudono alle 5, e in inverno alle 4, 4 e mezza, quindi, dovete cercare di muovervi. Se ce la fate, a fare quel giro lì, e anche vedere il Tempio d'Oro, che sarà comunque molto affollato, spostatevi anche eventualmente a vedere questi due templi, il Ryoan-ji, che è molto bello come giardino zen, e il Ninna-ji. Direi quindi che il secondo giorno ve lo siete già spesi, così, se non volete, faticare troppo, diciamo. L'ultimo giorno che io lascerei a Kyoto, lo passerei però ad Arashiyama, che è questa zona qui, di Arashiyama, dove ci sono dei bellissimi templi, e un'area comunque da visitare, tutta questa, tutta quest'area qui è molto bella, e merita, merita di essere vista. Qua c'è anche la foresta di bambù, e sì, direi che praticamente sono le cose principali, da vedere, ovviamente potete aggiungere qualche altro templio, qui in zona, ma se iniziate a fare degli spostamenti, considerate che comunque con l'autobus, ci vogliono quei 45-50 minuti, anche facendo i cambi, quindi, direi che i primi tre giorni, li avete passati. E sì, se vi avanza al del tempo, cioè lo dovete vedere, perché lo dovete vedere, quindi trovate il buco in quello che vi ho detto, ed è il tempio, dov'è? Qua sotto il Fushiminari, eccolo qui, il Fushiminari, è il tempio della volpe, è raggiungibile sia con la Kintetsu, oppure con la J.R., la J.R. è più vicina. È bello questo tempio, perché è quello dei tori, adesso ve lo faccio vedere, appena si decide di caricare, cioè questo qua. quindi diciamo che è molto molto interessante come post da vedere, molto particolare, però ricordatevi che sì, ci sono molti turisti anche lì e bisogna un attimo riuscire a districarsi. Il Fushiminari comunque guardatelo, magari se fate in tempo quando andate a Nara di ritorno, essendo sulla strada di ritorno, vi potete fermare lì, però a Nara io ci dedicherei una giornata piena, e sarebbe la quarta giornata, ovviamente potete suddividere queste giornate, perché andare in giornata a Nara lo potete fare tranquillamente, si arriva molto comodi a Nara con la Kintetsu, altrimenti la JR Line è un po' più lontano, ma non di tantissimo. A Nara è molto bello, perché ci sono i vari animali sacri che girano per le strade, che potete anche dare da mangiare, sono i caprioli praticamente, e questo è un giardino anche da vedere, ve lo segnalo subito, quindi segnatevi questo giardino da vedere, poi c'è ovviamente il Tempio, il Todaiji, che è uno dei tempi in legno più grandi del Giappone, fra l'altro più piccolo di quello che era, ma è dentro una statua gigantesca del Buddha, anche quello da vedere, c'è tutto altri templi, qui il santuario di Kasuga, il Todaiji Nigatsudo, che è sulla collina, e avete tutta la vista di Nara, molto bello per fare delle foto panoramiche, e comunque vedere il panorama appunto, è assolutamente da vedere, già che ci siete, ricordatevi di fermarvi qui, che è un'azienda, se non mi sbaglio, dovrebbe essere questa, storica, dove fanno il mochi, i mochi in diretta, quindi vedete proprio il vecchio metodo per fare i mochi, che è caratteristico, diciamo, ecco, e Nara abbiamo già speso un altro giorno, l'ultimo, il quinto, di cui vi volevo parlare, è appunto, io lo dedicherei a Kobe, Kobe barra i Meji, scegliete uno dei due, sono tutte tratte, che è possibile raggiungere, senza grosse spese, se non prendete lo Shinkansen, ma i treni locali, direttamente con la JRS, quindi senza JR Pass, se avete il JR Pass, e decidete di farlo, allora, non c'è neanche bisogno, andate tranquilli e via, Kobe è interessante, perché ha una bella Chinatown, e ha una bella area, dove, questo qui, il giardino, ecco, fino a nello trovato, questo giardino, molto particolare, con una rope away, quindi una funivia, che vi fa vedere tutto dall'alto, Kobe, è una città moderna, perché come sapete, una 25 anni fa, un po' di più, è venuto un terremoto, che l'ha devastata, e per me, merita di essere vista, il tempio di, il castello di Meiji, se volete vederlo, guardatelo, ma per me, è una giornata persa, perché anche più lontano, insomma, c'è anche un giardino di fianco, ma niente di più, quindi alla fine, è solo tempo, che se ne va, non ho parlato di Osaka, perché secondo me, Osaka, se andate già a Tokyo, della prima volta, è un ripetersi delle cose, quindi, rischiamo di duplicare tutto, cioè, il visto, perché alla fine, Tokyo e Osaka, hanno alcune peculiarità diverse, ma, sono grandi cittadone, diciamo così, se fate un giro di più di dieci giorni, potete pensare di spostarvi da Tokyo, da Kyoto in treno, a Kanazawa, Kanazawa merita almeno un giorno, non c'è lo Shinkansen per arrivarci, ma è un treno locale rapido, ci mette qualche ora, quindi consideratelo nello spostamento, ha due o tre cose, secondo me, interessanti da vedere, una è il Kenrokuen, questo bellissimo giardino, e il distretto delle Geishe, che sarebbero da vedere, c'è anche il, dove è che è qua, qui c'è la stazione di Kanazawa, quindi qui c'è lo Micho Market, che, se vi piace il pesce, o le cose particolari, andate lì, è un piccolo, neanche tanto piccolo, mercato del pesce, dove si trovano delle cose, veramente molto buone, Kanazawa, come ho detto, meriterebbe anche, una notte, minimo, e la sera poi trasferirsi, quindi se avete un giorno in più, o meno, valutate se fermarvi, io vi suggerirei, dopo Kyoto, di rifletterci bene, se andare a Kanazawa, perché, risulterebbe meno appariscente, rispetto a quello che avete appena visto, nei templi di Kyoto, giardini di Kyoto, e via dicendo, può essere valida, se fate il giro al contrario, cioè se iniziate il vostro tour, da Tokyo, e lo finite, successivamente, a Kyoto, quindi partendo dal Kansai, e quindi, potete pensare, di fermarvi lungo la strada, fare il giro dall'altra parte, una volta c'era, un Japan Rail Pass apposta, adesso non l'ho trovato, quindi, magari bisognerà, rimanere un attimo, tenere d'occhio la cosa, perché, cambiano questi Japan Rail Pass, locali, non quello nazionale, locali, che costano un po' meno, e possono offrire, degli ottimi spunti di viaggio, Tokyo, Tokyo è una tappa obbligata, perché è parte, della cultura giapponese, cioè ti fa vedere, tutto, tutta la cultura giapponese, in un unico posto, e la puoi apprezzare, benissimo, a Tokyo, è la megalopoli, più megalopoli delle tutte, per il momento, ma quelle cinesi, stanno già arrivando, e questa che vedete, è la Yamanote Line, è quella che gira, tutto attorno, alle zone più interessanti, e, che cosa c'è da vedere? Io suggerisco, di stare, di passare, quattro giorni e mezzo, a Tokyo, di cui uno, di spostamento, o due, se avete, un giorno in più, di viaggio, di spostamento, perché, allora, intanto, quando si arriva, io vi suggerirei, di trovare, delle aree, quando arrivate da Kyoto, una zona, abbastanza facile, da raggiungere, io l'ultima volta, nel 2019, sono stato da Chiabara, e che stranamente, avevo trovato, un hotel, capsule hotel, molto conveniente, molto bello, direttamente da Chiabara, è di sicuro, un bel posto, dove stare, anche la sera, i migliori per la sera, sono, senza dubbio, Shinjuku, e Kawaguchiko, lì di fianco, e ovviamente, Shibuya, ma sono anche quelli, dove gli hotel, costano di più, e, negli anni, se avete visto i miei video, io, e, il Fabietto San, abbiamo sempre, optato, per questa bellissima, donna, di Ueno e Asakusa, che è molto più tranquilla, e più caratteristica, rispetto, ad altre, di, Tokyo, o, purtroppo, l'hotel, dove stavamo, l'Oakotel, è chiuso, che non era più, Oakotel, ma aveva cambiato nome, diventando, Stay To Tokyo, è proprio chiuso, era, purtroppo, doveroso, che chiudesse, perché negli ultimi anni, era veramente, crollato, di, di qualità, io l'ultima volta, c'era stato nell'agosto del 2019, quindi, non ha chiuso, nemmeno, tanto, tanto tempo fa, che cosa, si può vedere, a, Tokyo, quando arrivate, a seconda della vostra zona, visto che comunque, la mattina, vi siete trasferiti, da Kyoto, in Shinkansen, fino a qui, o comunque, avete fatto uno spostamento, non arriverete, prima, di mezzogiorno, che vuol dire, che in mezza giornata, considerando che tutto chiude, intorno alle 5, al massimo, non avete molto da vedere, quindi potete andare nei centri commerciali, di Shinjuku o Shibuya, oppure, farvi due bellissimi passi, nel parco di Ueno, che è ovviamente, molto bello, ci sono anche dei musei da vedere, e a seconda di dove trovate, da dormire, può essere, una valida alternativa, e l'ultima, è il Senso-ji, ad Asakusa, tutto questo dipende sempre, da dove avete trovato l'hotel, quello che vi è, più vicino. Il giorno successivo, successivo, ovviamente, vi organizzate, per andare a vedere, una delle altre zone, che non avete visto, tipo Ueno, potete fare l'accoppiata, Shibuya Shinjuku, e quindi, avete già visto, delle altre belle cose, passando la serata, in una dei due posti. Io vi suggerirei, anche, di andare a Odaiba, in una giornata, quindi nel terzo giorno, direi qui, quindi Odaiba, è assolutamente, da vedere, passando sulla, Yuri Kamome, che è la monorotaia, la loro monorotaia automatica, che gira tutta qua in mezzo, e già che ci siete in zona, intorno ad Amamatsucho, dove si può anche prendere il trenino, per arrivare, all'aeroporto di Aneda, c'è questo bellissimo giardino, che secondo me, vale la pena, di visitare, già che siete in zona, infatti, a Sciodome, parte appunto, la monorotaia, che vi porta, fino a Odaiba, e io andrei comunque, nella vecchia zona, del mercato del pesce, che non è più questa, perché c'è quest'area qui, che è bellissima, area commerciale, tutte le cose legate, al pesce, e via dicendo, il mercato del pesce, si è spostato, qua, mi sembra, non mi ricordo, questa zona qua, comunque, adesso non ho ben capito dove, non ci sono ancora andato, però questa qui, è assolutamente, da provare, è interessante, girare qua in mezzo, ci sono tantissimi ristorantini, negozietti, che quando c'era il mercato del pesce, ti davano anche il pesce, freschissimo di giornata, era veramente fantastico, anche farci colazione, l'ultimo giorno, perché così abbiamo, cioè, adesso ne abbiamo fatti due, possiamo decidere, se vedere altre parti, di Tokyo, di Tokyo, come la zona di Ginza, e il palazzo imperiale, con giardino alnesso, che giardino è questo qua, ingresso gratuito, del, del, del parco, quindi, cioè, questo qui, scusate, è questo qua, il giardino, infatti dicevo, è troppo piccolo, per essere giardino, è questo qua, questo è il palazzo imperiale, qua si fa la classica foto, al palazzo imperiale, vabbè, può essere interessante vedere questa zona qui, e in ultimo arrivare, che comunque non è tanto lontano, la zona di Achiabara, per esempio, se non l'avete ancora vista, e il Tokyo Dome, quella, non so se avete visto gli ultimi video da là, è un'area molto bella, molto moderna, con anche un bellissimo orto botanico, un giardino botanico, dove si possono vedere le piante, molto, può essere molto interessante, altrimenti, potete decidere di fare delle gitte, cosiddette fuori porta, una, può essere a Yokohama, Yokohama, secondo me, è un posto da vedere, perché è interessante, soprattutto la Chinatown di Yokohama, ma anche se è molto commerciale, tutta questa zona qua del porto, e, sì, è un vedere un altro Giappone, perché, soprattutto, era già aperta, molto prima del resto del Giappone, e quindi ci sono già delle strutture, delle cose che richiamano quelle occidentali, un'altra gita in giornata, la potete fare eventualmente a Kamakura, in Oshima, farete molta fatica a farla entrambe in giornata, anche se sarebbe molto bello, perché arrivate da una parte, c'è il trenino che vi fa fare tutta la costa, e poi ritornate con una, con altri mezzi molto belli, li avete visti nel 2019, li ho fatti il video con Barabba-san, oppure inserire, se avete Japan Rail Pass, o decidete di partire, avete l'hotel vicino a Dasakuza, vicino a Senso-G, c'è la stazione della Tobu Line, che parte da qui, dentro questo palazzo, infatti se vedete c'è proprio la linea del treno, che vi porta dove? A Nicco, Nicco secondo me è assolutamente da vedere, soprattutto, Nicco lo vedete è molto lontano, ci sono i treni ad alta velocità, ma qualche ora vi parte, e costano anche questi treni, il pass giornaliero per avere anche i trasporti, mi sbaglio sempre tutte le volte, è qua, costa, costa, e ci vuole comunque del tempo, quindi io cercherei di infilarci nel mezzo, perché è molto caratteristico, tutta quest'area qui, dei templi, e in ultima, in ultima analisi, se rimanete lì un po' di più allungate, per fare questo lago, e le cascate, è un'area molto bella, molto diversa, montana, quindi potete vedere un Giappone, un pelo diverso, ma comunque turistico, perché sono comunque posti turistici, non come quelli che ho visto io ultimamente da solo, direi che con il viaggio è completo, questi 10, 12, 13 giorni, a seconda di come ve lo volete comporre, vi ho dato qualche idea di come comporre la cosa, e come spostarsi, come spostarsi è fondamentale, vi faccio vedere questo sito che è Iperdia, adesso qui avevo già lanciato, per farvi vedere come è definito questo sito, vi fa proprio vedere, tipo da Nakano il treno, con tutti i cambi anche per linee private, quindi passaggio a doppio treno della JR, e passaggio alla Toei, per arrivare a Dasakusa, in una mezz'oretta, spendendo 400 yen, vi dà il tempo e ve lo dà il prezzo, e ve lo dà anche suddiviso per le tratte di competenza, proprio è molto molto completo, il sito è vecchissimo, è uguale a se stesso da una vita, ricordatevi quando mettete da dove a dove, vi suggerisce già lui, quando digitate tipo Asakusa, vedete vi dà tante possibilità, ci sono Asakusa per esempio, o Tobu o Tsukuba, sono due fermate differenti, quindi dateci un occhio e state molto attenti, l'altra cosa fondamentale da considerare, è questa tipologia qui, questa scelta, perché l'aeroplano non mi serve ovviamente, se ho il Japan Rail Pass, inoltre devo togliere Nozomi, perché Nozomi e Mizuho, non li posso prendere col Japan Rail Pass, non sono compresi, la Yabusa sì, ma la Yabusa va verso Sapporo, quindi diciamo che non vi serve, quindi potete fare le vostre scelte, per raffinare la ricerca, e capire effettivamente quanto sono i costi, potete scegliere anche Japan Railways, o Private Railways, sappiate che in certe zone, si arriva solo con delle Private Railways, altrimenti alcune sono, diciamo, ci potete andare da una parte o dall'altra, come ho fatto a vedere prima, vi faccio vedere il costo di un Tokyo, anzi facciamo un Ueno proprio, no facciamo Tokyo, Tokyo, Tokyo Station, ok, che è questa qui, Kyoto, giusto per farvi vedere, Kyoto, ecco non lo riesco più neanche a digitare, vi faccio vedere senza Nozomi, i costi, per farvi, così potete, questo qui vi ha appunto i costi, vedete uno Shinkansen Ikari, in tre ore, ci mette tre ore di treno, e vabbè che adesso è praticamente notturno, quindi l'orario praticamente, con l'Ikari ci vogliono 8000 yen, praticamente, più il posto riservato, sono la bellezza di 13850 yen, e il Nozomi costa leggermente di più, è per quello che io vi dicevo, un Japan Rail Pass, a voi, adesso vi faccio vedere, dov'è che sta, dov'è che stanno il Japan Rail Pass, ecco i regionali, adesso vi faccio vedere, questo Japan Rail Pass, mi chiede ovviamente di registrarmi, costa 238 euro, per sette giorni, ovviamente se io spendo 110 euro per una sola volta in Shinkansen, e le altre volte molto meno, cioè per un totale inferiore ai 120 euro per altri spostamenti, non vale la pena fare il Japan Rail Pass, soprattutto se alcuni li fai e sono obbligati solo su private railways, quindi la Kintetsu, la Tobu e via dicendo, non sono comprese nel Japan Rail Pass, però potreste anche risparmiare e decidere di non prenderlo, l'ho fatto più volte di non prenderlo, ci sono i pass regionali, che potrebbero essere validi, a seconda di alcune zone di competenza, come potete vedere, quelle verde, liste e via dicendo, ma in realtà sono molti di più, sono molti di più, questi sono tutti quelli che ci sono, guardate qui sulla barra, ce ne sono tantissimi, e sono molto particolari, e possono essere utili, tipo vi consiglierei il Kansai Pass, o l'Ikoka e Araruka, perché potrebbero essere interessanti nel giro che vi ho spiegato prima, quindi che vi sto presentando adesso, con Iperdia funziona benissimo anche con l'app, e vi serve per capire quali treni volete prendere, o sono più comodi per voi, quindi usatela, usatela bene, altrimenti come si comprano i biglietti? Questa è la classica vending machine, che vi ritrovate, quando prendete la metropolitana, per esempio a Kyoto, a Tokyo, questo, io vi consiglio le prime volte che non sapete, se non capite dalle mappe quanto costa, di mettervi direttamente il prezzo più basso, quindi prendete il prezzo più basso della tratta, e andate lì direttamente, poi all'uscita ci sarà una vending machine apposta, per aumentare. Vi ho fatto vedere prima un sito che si chiama japanguide.com, secondo me è importantissimo, diciamo così, importantissimo per capire come funziona un certo luogo, una certa zona, una certa destinazione, come funziona, come è collegata, è veramente completissimo, già da anni io lo utilizzo, ed è veramente comodo. Un'altra cosa che potete valutare, perché da adesso sugli shinkansen non è più possibile portare un bagaglio, oltre il bagaglio a mano, della grandezza superiore, perché non potete metterlo nella cappelliera, come avete visto nei miei viaggi spesso me lo sono messo davanti alle gambe, ma non si può più fare, e vi obbligano a pagare in loco ulteriori 1000 yen. Se però avete solo un viaggio e volete viaggiare comodi, potete pensare di farvi spedire dal vostro hotel all'altro hotel, tramite questo servizio della Yamato Transport Co., la gatta che porta il gattino in via. Bellissimo, cioè il suo logo meriterebbe di essere sfruttato, fatelo se vi sentite sicuri, ma fatevelo fare soprattutto dal vostro hotel, per essere totalmente fuori da ogni problema con la lingua giapponese, altrimenti, oddio, vi costerà un po' di più di pagare i 1000 yen, ma avrete dalla vostra il fatto di non viaggiare con il bagaglio, e se lo spedite la sera vi arriva il giorno dopo, quindi comodo, potrete viaggiare con un piccolo bagaglio a mano e via dicendo. Vi consiglio inoltre qualche hotel, non ve l'ho detto, ma gli hotel potete prendere quelli che volete, perché sinceramente su booking.com o hostelworld potete trovare tutto quello che vi interessa, dai prezzi più modici a quelli più elevati, è chiaro che quello più modico può non avere i servizi, ma io anche in quello dove ho speso meno in assoluto, ho sempre trovato pulizia, disponibilità, cortesia, è un status del Giappone, quindi valutate anche degli ostelli come questo, che si chiama la catena del KS, una delle migliori, soprattutto vi consiglio, non è proprio di mano, però può tornare utile quello di Kyoto, io sono stato anche quello di Hiroshima, e devo dire di sì, a Tokyo non ci sono mai andato, lo proverò, ma mi sembrava fuori mano questo qua. A Tokyo, se volete, ve ne ho già parlato, c'è la nuova catena degli OAK, perché è quello originale, ha chiuso, ma ce ne sono tantissimi altri, che potete pensare di prendere in considerazione, anche se ho visto che non sono proprio proprio di mano. Io direi di aver affrontato tutto, ma non questo qui ve ne devo parlare, è il Pongi, il Pongi è a Kanazawa, se vi fermate, ve lo consiglio, è una guest house, un bagno e una doccia, tutto in comune, però è bello, è un'esperienza, se non andate in un ryokan, questo può essere veramente interessante, e hanno solo una camera privata, da due persone, quindi dovrete, cioè, con il sufficiente largo anticipo dovrete prenotarla, veramente, non sto scherzando. L'ultima nota, prima di lasciarvi, è il wireless. Allora, ci sono tantissime app, e tantissime postazioni wifi, offerte dal JR, dagli autobus, anche le colonette degli autobus a Kyoto, ce l'hanno, le stazioni, è pieno di wifi gratuite, che funzionano molto bene, in cui non vi dovete praticamente registrare, se non accettare le cose, e il vostro telefono, poi farà la registrazione. Se invece volete proprio viaggiare liberi, tutto quanto, scaricarvi le mappe di Google, che però sono finalmente offline, potete rivolgervi a questo Japan Wireless, è un noleggio di wifi, i prezzi attualmente sono molto contenuti, perché come potete immaginare, non c'è assolutamente giro, però se siete in tre o quattro, cinque, ve lo potete dividere, regge benissimo, traffico illimitato, veramente funzionano da dio, vi arrivano all'hotel, oppure lo potete ritirare dall'aeroporto, oppure, cioè, oppure alla fine, quando lo dovete riconsegnare, vi basta imbustarlo, e metterlo dentro, a una, con una busta che vi danno loro, metterlo dentro alla cassetta della posta, e voi siete a posto. L'ultimissima cosa di cui voglio parlarvi, di cui non avevo ancora accennato, sono le IC card, sono quelle carte Airfeed, che vi risparmiano di acquistare biglietti, come vi ho fatto vedere prima, nei tornelli automatici, con questa qui, potete tranquillamente ricaricarla, di tot, yen, se non vi si fa uscire all'uscita, è perché non avete i soldi, quindi, sarà una vending machine apposta, per ricaricarla prima, ricaricate anche con 1.000 ien, uscite, e siete a posto. È molto semplice, potete anche usarla nei combini, per pagare, se non avete il contante, o non volete, ve ne faccio vedere alcune, una suica, che avevo io presa quest'anno, altrimenti, per tocchio sempre, questo qui è Nakano, e via dicendo, ecco, questa qui è il mio, con addirittura la pasmo, con il mio abbonamento, per andare studio, lavoro, scuola, e l'ultima, l'ultima, quella più bella, che tengo proprio con, con tanto amore, è questa Icoca qui, con i demoni sopra, è veramente unica, unica, è bellissima, e la tenrò sempre. Grazie per essere arrivati fin qui, credo di avervi fornito, qualche giusta indicazione, su come organizzare il vostro viaggio in Giappone, questo era veramente un viaggio base, poi ci sono cose un po' più specifiche, che volendo potete chiedermi in privato, ma potete anche andare sul mio sito web, marco tadia.net, magari fare anche una donazione, così perché vi è capitato, c'è anche il link, o prendere spunto da tutto quello che ho scritto, e dagli altri video, che ho messo riguardo al Giappone. Ricordatevi per piacere di mettere mi piace, è fondamentale, commentate, dite cosa ne pensate di questo video, o fate altri suggerimenti, condividete questo video con le persone che ritenete possa interessare, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!